Guido Guidesi, il governo Letta ha fatto un decreto che salva Roma, quanti soldi gli danno? Gli danno un bel 400 milioni di euro alla faccia dei comuni virtuosi, Roma anche quest'anno grazie al governo Letta riesce a tappare un pezzo del proprio buco di bilancio, buco di bilancio causato da quegli amministratori irresponsabili, siano esti di destra o di sinistra, ma che a Roma sono ormai la quotidianità e si conseguono di legislatura in legislatura. Oggi ratifichiamo che il governo Letta, del duo Letta-Alfano, rievoca un metodo della Prima Repubblica che è quello che chi spreca, chi fa buchi di bilancio alla faccia invece degli amministratori virtuosi e responsabili viene premiato. A questo punto io credo che tutti quei bravi sindaci, quei sindaci responsabili del nord debbano avere un impulso di degnità e criticare e assolutamente combattere questo governo che non è altro che la nuova democrazia cristiana.